Abbiamo un rapporto storico con Confedidizia. Noi siamo nati da Confedidizia, collaboriamo da anni, tantissime battaglie, loro sono nostre, le nostre battaglie sono anche le loro. Abbiamo molti presidenti in comune anche perché sul territorio e insieme a tutti gli associati lavoriamo per sancire delle cose anche se volete secondarie tipo quelle che le tasse applicate in modo patrimoniale impoveriscono e depauperano la proprietà immobiliare e ne deprimono il valore e che invece le tasse dovrebbero essere applicate sul reddito appunto. Questo lo diciamo ad anni ma questa è la base del nostro lavoro. Quindi con piacere chiamo qui sul palco il presidente di Confedidizia Giorgio Spaziani Testo. Grazie a Paolo Righi per l'invito, per avermi dato la possibilità di parlare di fronte a questa splendida platea e grazie soprattutto per l'attività di questi anni. Grazie a lui, alla FIAIP in generale, ma naturalmente oggi mi preme dire grazie a lui anche se è sparito, non lo vedo più, grazie a Paolo Righi per la collaborazione di questi anni. Noi abbiamo vissuto insieme tante cose, io in due ruoli diversi, prima come segretario generale di Confedidizia da due anni è qualcosa come presidente, lui in questi anni come presidente, prima ancora devo dire in altri ruoli in FIAIP, ma abbiamo collaborato, veramente collaborato, a volte senza neanche sentirci, a volte perché il comune sentire che FIAIP e Confedidizia hanno da sempre, non in questo caso Righi e Spaziani Testo, anche in questo caso noi, ma FIAIP e Confedidizia hanno un comune sentire da tanti anni che dovrebbe essere, credo, il comune sentire di tante altre organizzazioni. Mi rifaccio a quanto detto da più di una persona oggi, da Paolo Righi in particolare, noi dobbiamo parlare come settore, io sto cercando di farlo sempre di più, lo sta facendo anche FIAIP, dobbiamo parlare come settore, non dobbiamo parlare come singoli perché questa forse, non certamente, questa forse è la strada per cominciare a convincere la politica, perché è con quella che noi ci rapportiamo, il governo e il Parlamento, a comprendere che c'è un settore immobiliare da capire innanzitutto e già questa è una fatica enorme, far capire che cos'è il settore immobiliare e cosa produce e poi appunto far capire quali vantaggi può portare il settore immobiliare all'economia, quali non sta portando per via di una crisi che rimane, lo dico anch'io come lo hanno detto altri. È difficile farlo capire, questo è il primo passo, il secondo è poi far sì che ci siano misure conseguenti, ma è davvero difficile, per questo io richiamo molto la collaborazione con FIAEP. Ha parlato prima il notariato, l'esponente del Consiglio nazionale del notariato, io credo che anche il notariato debba dire quello che diciamo noi ogni giorno, anche senza sentirci, cioè fare un po' quel lavoro sporco di denuncia della tassazione. Noi non possiamo non segnalare alla politica, alla stampa, a tutti che in Italia non c'è stata solo una crisi, è qualcosa che diventa noioso, ma noi dobbiamo ripeterlo, che in Italia non c'è stata solo una crisi, ma ce ne sono state due, quando si sommano due crisi la situazione peggiora notevolmente, come è evidente, cioè la crisi internazionale che tutti conosciamo e poi la crisi indotta dalla politica sbagliata sull'immobiliare che è stata fatta. Il tema fiscale non è certamente l'unico, ma è un tema ineludibile, bisogna sentire le persone, qui c'è chi le sente ogni giorno, se si massacra fiscalmente dal punto di vista patrimoniale, vengo all'accenno che faceva il Presidente Righi, non possono non esserci conseguenze, le conseguenze ci sono state, i dati ultimi sono chiari, poi c'è il sentore di tutti noi, diceva il Presidente Campana, ci sono tanti mercati, è assolutamente vero, c'è Roma, c'è Milano, c'è il mercato dei grandi soggetti che investono in grandi centri commerciali, poi c'è la realtà di tutto il resto d'Italia. Ci sono dati che noi abbiamo portato all'attenzione di tutti, Eurostat per due volte consecutive ultimamente ci ha detto che l'Italia è l'ultima in termini di crescita, anzi di non crescita, in termini di andamento dei valori, dei prezzi e quindi dei valori, perché i prezzi sono anche il valore degli investimenti delle persone, in Europa, prima con Cipro, poi con la Croazia, queste sono con tutto il rispetto le compagnie, ma questo cosa vuol dire? E poi c'è tutto ciò che non è rilevabile, il Presidente Catricala parlava di invenduto e si riferiva all'inventuto giustamente, correttamente, delle imprese, ma c'è l'invenduto delle famiglie che è una cosa enorme, è una cosa che nessun Eurostat, nessun Istat, nessuno rileverà mai, io credo che tutti coloro che sono qui dentro se ne siano accorti molto prima di chiunque altro, cioè ci sono tante case, ma non solo case, perché poi anche questo è importante dire, dobbiamo parlare di immobili in generale, tanti immobili che non hanno minimamente mercato, non ce l'hanno e noi non ce lo dobbiamo nascondere questo, dobbiamo dire come diciamo che l'immobiliare porta sviluppo e dobbiamo ripeterlo, dobbiamo urlarlo, ma non dobbiamo nascondere la realtà, perché altrimenti chi deve decidere non lo convinciamo, invece la capacità di convincimento io credo che ce l'abbiamo e piano piano qualcosa sta cambiando, se è vero come è vero anche che diversi studiosi, economisti, stanno cominciando a dire cose un po' diverse da quelle che dicevano prima, non tanto e non solo il nostro, dico nostro, perché ha fatto tante cose per confidelizia il professor Francesco Forte che ha spiegato già da molti anni come sia sbagliata e non corretta dal punto di vista tecnico la tesi secondo la quale tassare l'immobiliare sarebbe più favorevole per la crescita o meno dannoso rispetto al tassare imprese e lavoro, ma anche altri esponenti, il professor Puglisi, moltissimo negli ultimi tempi, il professor Daveri, faccio nomi che qualcuno potrebbe non conoscere, ma il nostro ruolo credo che sia anche questo, convincere sia con l'esposizione pubblica ma anche con i contatti privati, anche studiosi di un certo ambiente, il professor Daveri è anche un bocconiano e recentemente sulla voce.info, non su un giornale diciamo amico di confedilizia o di FIAIP ha detto che alla crescita manca l'immobiliare e manca l'immobiliare anche non solo, ha detto come avrebbe detto magari con fedilizia, non solo ma anche per il fisco, quindi stiamo cominciando a convincere qualcuno, ma io credo che sia importante e lo dico ringraziando ancora Paolo Righi per la collaborazione, per la lealtà anche e per il comune sentire sia importante che FIAIP, e sono convinto che sarà così, continui a lavorare insieme a noi a dire queste cose, perché lo dovrebbero dire davvero, ripeto, continuo su questo tasto perché è fondamentale o dovrebbero dire in tanti altri, perché quando FIAIP come confedilizia parla di occupazioni, parla di occupazioni intendo occupazioni illegali, quando parla di fiscalità l'abbiamo detto finora, quando parla di oneri per la sicurezza che con la scusa della sicurezza si pretende di imporre ai proprietari, non lo fa perché è amica di confedilizia, perché i presidenti magari hanno un buon rapporto, lo fa perché sa che è interesse degli agenti immobiliari, ma di tutta la filiera dell'immobiliare, che non si gravi di oneri fiscali o di adempimenti inutili, l'immobiliare perché poi ci perdono tutti, questa è la realtà, fa solo il suo interesse, FIAIP quando dice queste cose, se noi pensiamo che ieri l'ultima notizia è quella di un'occupazione di un immobile, l'ha denunciata SIDIEF, che è la società della Banca d'Italia che ha 9.000 immobili che affitta, non fa grandi speculazioni, è anche un'associata confedilizia, ho il piacere di dirlo, ha denunciato perché forse ha tirato fuori la testa con la sobrietà di Banca d'Italia perché ha visto che il tema comincia a essere un po' di moda, ha denunciato un'occupazione a Roma di 13 anni, io credo che un'occupazione a Roma ovunque di 13 anni quando viene ad essere nota degli investitori non può non portare a danni ad un mercato immobiliare diffuso e importante come quello italiano, per questo FIAIP come confedilizia interviene anche su questi aspetti. Lo stesso sugli affitti brevi c'è stato un riferimento dell'assessore comprensibile, Verona mi risulta essere la città dalla quale è partita Airbnb in maniera più consistente, è chiaro che c'è un problema nelle città di maggiore utilizzo degli immobili abitativi per finalità turistiche, ma è altrettanto chiaro come diceva Paolo Righi che c'è un problema di fiscalità anche locale che andrebbe risolto, se io ho un immobile in più non riesco a vendere, non riesco a affittarlo in maniera tradizionale qualcosa devo fare per pagare le tasse, magari non ho neanche un lavoro perché accade anche questo e quindi bisogna sì lavorare perché tutto avvenga in armonia ma bisogna evitare di imporre oneri assurdi ai proprietari che muovono l'economia anche attraverso gli affitti brevi. Non voglio dilungarmi troppo e mi permetto e voglio però fare un riferimento ai rapporti anche nostri dal punto di vista territoriale, noi siamo parenti come ha detto anche Paolo Righi all'inizio e lo siamo a livello nazionale per la collaborazione che abbiamo da tanti anni ma lo siamo anche a livello territoriale, io non mi stanco di ripetere ai nostri per quel che posso e per quel che mi compete di alimentare, di accrescere, di integrare e di migliorare dove serve la collaborazione con gli agenti immobiliari FIAIP e con le rappresentanze FIAIP, credo che ci siano tante occasioni anche concrete di sviluppo della nostra collaborazione a partire da quella dei nuovi contratti cosiddetti concordati, il nuovo decreto che prevede nuovi adempimenti e nuove possibilità sia per le associazioni territoriali che per gli agenti immobiliari, non mi stanco di chiedere ai nostri rappresentanze territoriali di partecipare alle riunioni per il rinnovo degli accordi con chi conosce il mercato e cioè con gli agenti immobiliari FIAIP, spero che venga fatto e so che a Verona ad esempio c'è un'ottima collaborazione, ma dobbiamo alimentare e spingere sempre di più la nostra collaborazione, abbiamo dei progetti in questo senso che credo e spero che continueranno anche sul fronte delle amministrazioni condominali, dell'amministrazione di condominio che so essere un'attività che in molti casi viene svolta in forma minore ma anche da tanti agenti immobiliari. Ecco io credo che dobbiamo e concludo e mi scuso se mi sono dilungato, approfittare di questa occasione per parlare alla politica, per far comprendere alla politica che siamo un settore, non siamo i proprietari, noi a volte ci tiriamo indietro e non parliamo più di proprietà e qualcuno al nostro interno storce la bocca soprattutto se è fedele e giustamente riconoscente alle tradizioni e alla tutela della proprietà ma dobbiamo parlare di immobiliare, dobbiamo parlare tutti insieme con i costruttori, con gli agenti e con tutto ciò che si muove attorno all'immobiliare per far capire che vanno cambiate le cose in Italia si deve intervenire non tanto con incentivi come si diceva poco fa quanto con misure strutturali per il settore e gli effetti sull'economia non tarderanno ad arrivare. Grazie.